La carenza degli psichiatri è veramente molto evidente, in quanto a tutt'oggi in servizio ci sono appena un terzo di quelli che sono realmente previsti dalla normativa. Ricordo che la psichiatria di Pesaro Rifano fa un servizio per circa 280.000 persone e la norma prevede uno psichiatra ogni 10.000 persone, quindi dovrebbero essere in 28, ma ad oggi in servizio sono appena in 10 più il primario. Per quanto riguarda il centro di disturbi alimentari, anche qui è presente un solo psichiatra che ovviamente, come tutti, ha diritto ad andare in ferio o può anche capitare che è in malattia e quindi è assente presso il proprio servizio. Questo comporta un allungamento delle liste d'attesa, un allungamento delle prime visite e tutti quei servizi che sono necessari. Io ritengo che questa situazione stia già sperando innanzitutto i pazienti e le loro famiglie, che non riescono ad avere una risposta in tempi rapidi, spesso parliamo di situazioni anche complicate e quindi ritengo che il servizio pubblico debba essere nelle condizioni di poter stare vicino ai cittadini. Ma è un problema anche per quanto riguarda lo stesso personale che a causa di questa carenza è costretto a carichi di lavoro che stanno diventando insostenibili e che quindi sta provocando, come dire, un'emoragia del personale che preferisce andare a lavorare in altre strutture e soprattutto in altre regioni. Per quanto riguarda, voglio ricordarlo, che i psichiatri del servizio di psichiatria vengono chiamati per i servizi dei ricoveri ospedalieri, fanno il servizio presso i centri di salute mentale, svolgono assistenza nei centri diurni, nelle strutture riabilitative. Quindi questo è un servizio a cui fanno un riferimento veramente tante altre attività. Io mi auguro che la regione cambi passo, decida di riattivare i concorsi, l'organico deve essere potenziato, ma soprattutto è necessaria una riorganizzazione anche alla luce della nuova azienda sanitaria territoriale, quindi una razionalizzazione del personale presente al fine di riuscire a dare risposte alle tante famiglie che hanno bisogno di un servizio pubblico più efficiente e che possa stargli vicino nei momenti di bisogno.